Vieni se è un celebre personaggio, sto cazzo, avvocato Allora, sbagghiamo col barriere, no? Eh, esatto Gli sparato mi ha dato lead marker Mi dà lead marker, prova a sparargli tu Oh mio Dio, questo è bellissimo C'è la trappola definitiva questa, ma adesso dovrò stoccaggio a duttare? Eh no, vale la pena E arrivo con lo stoccaggio Aspetta, fermati Fermati, fermati Non mi sono fortuna Nooo 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 E' immortale E' il divino barile E' il barile... E' il barile di Atena del punto zero Sì